Allora sorelle e pazzerelle, come sapete avete e abbiamo raggiunto un altro traguardo, volete dire che traguardo avete raggiunto? I 10.000 iscritti! Eh sì ragazzi, finalmente abbiamo raggiunto questi 10.000 iscritti grazie a voi, grazie a tutti, un bacione grandissimo e quindi per questo traguardo io e papà abbiamo voluto fare questa cosina come ricordo di questo nuovo traguardo Oddio, che sarà? Questo è per voi Scarchiamo, scarchiamo Scarchiamo insieme Scarchiamo Scarsa, aperta Ok Pronta Oh che ti piace Ah è da qua, da qua, da qua Vai strappa adesso, strappa tutto Uno, due, tre Oh Uh che carino Guardate un po' che c'è scritto Sorelle e pazzerelle, congratulazioni per aver raggiunto 10.000 iscritti YouTube Noo, che bello Questo è stato fatto personalmente da papà Che bello Che figo l'amore Vi piace? Sì avete visto ragazzi che carino avete visto che bello perché ovviamente youtube ha 10.000 iscritti non lo manda e no però abbiamo voluto fare questo noi che bello ragazzi grazie ancora a tutti continuate a seguirci condividete sempre i nostri video così grazie a voi cresciamo sempre di più perché il traguardo è ancora lungo adesso dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti mamma mia è tantissimo però il cammino è lungo però ci riusciremo grazie a voi ciao amici grazie a tutti